Uè, cuore! E allora? No, ho chiuso tutto, ma me ne vado sopra. Fa freddo. Eh no, io prima, siccome non mi stavi rispondendo, stavo iniziando un attimino a dare un'agitazione. Dopo stavo dicendo, che cazzo, che fine ha fatto, che non ha fatto, che è successo, che non è successo, che... Infatti poi ho mandato un paio di messaggi all'altro, ho detto, ma niente? No. Ma niente? No. Eh vabbè. Senti, ti hanno fatto sapere il fatto del risultato degli analisi? O non ti hanno detto nulla ancora? Ti sei fatto una bella dormita? Eh. Senti, vediti un po' di partite. Vedi... Tanto ci sono le partite. Poi mi sa che danno tre o quattro partite al giorno. Eh? Se ti piace, ovviamente. Non è che... Lo so che ti piace il calcio. Però se ti piace magari seguire i mondiali. Visto che sei così, almeno perdi un po' di tempo. Eh? Che dici? Beh, vedi un po', eh? L'Anto è venuto qua stasera. E... Ma ha detto, ma vado a prendere delle pizze. Vabbè. Mangiamo qualcosa, anche perché poi sta la partita, sta giocando alla Francia, mi sa. Francia-Australia. Eh. Senti, e tu invece? Eh? Ma non ce l'hai a fianco la presa, tu, per caricare il telefono? Vero? È lontana, quindi per forza è bisogno di qualcuno che... che ti faccia caricare il telefono. Eh? Eh, vabbè, quale? Poi è normale, stando nel letto, che devi fare? Ti metti a... a vedere il telefono, ci mancherebbe. Almeno per passare un po' di tempo. Senti, niente, prima di nuovo squilli dal donna. E... Speriamo che si decide a chiamare, pure che mi ascolta. Speriamo. Eh? E poi il resto è tutto a posto, cuore mio. Giornata tranquilla, giornata tranquilla. Ok? Mo' non vi do l'ora di andare a mangiare, che c'ho un po' di fame. Eh? Almeno questo, dai. Eh? Eh? E niente, poi dopo ho mangiato o mi vedo le iene o mi vedo la partita. Stasera stanno, mi sa che stanno le iene. Ah, mi piace quel programma, mi piace. Ecco. Senti, quindi stasera niente la Caterina, vero? Vero? Beh, vabbè, dà un po' di pazienza. Ah, è più che altro che quelle che ti viene a dire due chiacchiere, due voi, se parli, perdi un po' di tempo in più. Ti chiamo commendatore. Eh, vabbè. Sì, lo so, il tuo pensiero qual è, lo so benissimo, lo so benissimo. Ed hai ragione, figurati. Oggi, oggi è 22, cuore. Sì, Santa Cecilia. No, stavo vedendo il calendario che ce l'ho di fronte a me. Ah, vedi la macchina per la crossa? Vedi? Non so se riesci a vederla. La vedi? Eh. Con quella facevamo... Facevamo il... Il diancross. Quello che vi spiegavo l'altro giorno. Qua c'è l'altra, vedi? Aspetta. Ti faccio vedere. Vedi questo come veniva allestita? Eh. Eh, vabbè, qua c'ho le mie coppe. Vabbè. Beh, cuore mio. Vado a mangiare, dai. Fammi sapere cosa ti sei mangiato anche tu. Ok? Ci aggiorniamo a dopo per la buona notte. Beh. E fatti sentire, che se no me ne vado in agitazione. Ciao, cuore mio e due. Un bacio, un cuore e un abbraccio.